Fin da piccolo ho giocato i videogiochi e adesso li sto facendo. Sono colui che crea effettivamente ciò che poi gli utenti, i giocatori andranno a vedere. Ciao, sono Paolo e lavoro come game artist in JAMA Games. Un game artist deve occuparsi di tutto quello che è il comparto grafico all'interno di un gioco. Quindi partendo dalla fase di concept fino a poi arrivare a quelli che sono gli asset finali. Occupandosi del mondo di gioco, la luce, le creature, i fucili, tutte le armi possibili e i personaggi ovviamente. Beh, lavorare in JAMA Games è bello perché siamo tutti ragazzi con tanta passione, tanta voglia di lavorare e so che posso contare su qualsiasi degli altri miei compagni, colleghi. C'è fiducia, c'è fiducia reciproca, c'è tanta stima anche. L'ambiente di lavoro è molto bello, si lavora tanto ma si lavora bene. Siamo giovani talenti pieni di voglia di lavorare, di passione e di energia. Ci piace metterci alla prova, ci piace spingerci oltre i nostri limiti e siamo come una famiglia. Per me il miglior gioco si chiama Kingdom Hearts, Square Enix e Disney insieme. Quando ci ho giocato la prima volta ero forse anche troppo piccolo e ingenuo per capire bene cosa ci fosse in ballo. Da molti è stato visto all'inizio come qualcosa di strano, come due entità quasi incompatibili. In realtà si sposano molto bene, ho fatto davvero un ottimo lavoro. Ci sono dei momenti talmente emozionanti che sono rimasti impressi nella mia mente. Tre aggettivi per descrivermi. Partirei consolare perché appunto sorrido sempre. Sono una persona molto precisa e ordinata. Sono una persona anomala perché mi piace pulire e mi piace tenere appunto pulite e in ordine le cose. Sono anche altruista, mi piace aiutare le altre persone quando hanno un problema, mi piace aiutarle a farle stare meglio.